Sei ancora indeciso? Vieni in negozio, siamo a tua disposizione! Ti aspettiamo presso il tuo Fastweb Store? In Corso Mazzini 58, Cava dei Tirreni Fissati nella giornata di oggi, martedì 16 maggio, alle ore 16, presso la chiesa di Santa Maria della Consolazione, a San Valentino Torio, i funerali dei due giovani fidanzati che hanno tragicamente perso la vita nell'incidente stradale avvenuto domenica sera, sulla 30, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino. Si tratta della 14enne Gemila Sonia Bulila, studentessa di Scienze Umane all'Istituto Superiore Alberto Galizia di Nocera Inferiore, e di Rosario Langella, 16enne, studente all'Istituto Enrico Fermi di Sarno. Nel momento in cui la Toyota Yaris, guidata dal papà della ragazza, ha impattato entrambi i guardarei autostradali e si è più volte ribaltata all'altezza del chilometro 52 della 30, mentre viaggiava verso nord in direzione di Caserta, dopo che il conducente ne ha perso il controllo probabilmente per lo scoppio di uno pneumatico, la giovane Gemila è stata sbalzata fuori dall'auto, perdendo sul colpo la vita, mentre il fidanzato Rosario è deceduto nella notte di domenica presso l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Nell'auto viaggiavano anche il fratellino della ragazza, Murad, di 8 anni, e la madre, Giussi Ruocco Sorrentino, entrambi in gravissime condizioni di salute, rispettivamente nel nostro comio salernitano e all'ospedale Loreto Mare di Napoli. Il padre della ragazza, che era la guida dell'auto, Edy Bulila, nativo di Sarno e di origine tunisina, ha riportato alcune ferite non gravi. Nelle prossime ore sarà sentito, in qualità di indagato, con le accuse di omicidio stradale e lesioni gravi. Straziato dal dolore, il padre di Rosario Langella, invece, residente a Pagani, ha chiesto che i due ragazzi possano essere seppelliti, l'uno accanto all'altra, nel cimitero di San Valentino Torio, cittadina dove la salma di Gemila è giunta alcune ore dopo il decesso. I due sindaci delle comunità di Pagani e San Valentino Torio hanno da subito espresso il loro cordoglio ai familiari e parenti delle due giovani vittime. Il primo cittadino paganese ha definito l'accaduto un'immensa tragedia per le due comunità colpite. Il sindaco di San Valentino Torio ha proclamato per quest'oggi il lutto cittadino in concomitanza dei funerali previsti alle ore 16, disponendo l'esposizione delle bandiere a mezz'asta negli edifici pubblici e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche in programma, invitando inoltre le attività commerciali e i cittadini tutti a dare un segno della loro vicinanza nelle forme che riterranno più opportune.